Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con ConfCommercio Notizie. Il presidente provinciale di ConfCommercio Vicenza, Sergio Rebeca, e il direttore Ernesto Boschiero questa settimana hanno incontrato il nuovo prefetto di Vicenza, Umberto Guidato, e successivamente il nuovo questore, Giuseppe Petronzi. I colloqui sono serviti per presentare l'attività svolta dall'associazione in tutta la provincia, ma anche per sottolineare le priorità di intervento per il mondo del terziario, a cominciare dal contrasto ai fenomeni criminali e a dare sicurezza ai cittadini. Siamo grati per il grande lavoro svolto dalle forze dell'ordine, afferma il presidente Sergio Rebeca, ma il livello di allarme resta però ancora alto per il ripetersi di furti e per il rischio che alcune zone in città e provincia scivolino sempre più nel degrado, cambiando fisionomia. Sempre a proposito di ordine pubblico, nel corso di entrambi gli incontri, si è affrontato il tema dell'immigrazione e della gestione dei profughi, spostandosi poi su tematiche più direttamente connesse al mondo del commercio come l'abusivismo e il governo urbanistico del territorio, nel quale, come ha voluto ricordare il presidente Rebeca, si deve prestare particolare attenzione alle attività di vicinato per scongiurare la desertificazione commerciale dei piccoli centri e dei quartieri. Una stagione invernale con poca neve ad Asiago. Nonostante ciò, le iniziative promosse sul territorio da Confcommercio e Comune hanno comunque attirato visitatori sull'altopiano, anche se per ripartire con il turismo invernale è necessario puntare sull'impianto di risalita e neve artificiale, come ci spiegano Angela Calli, presidente della delegazione di Asiago di Confcommercio e l'abbergatore Paolo Rigoni, socio dell'impianto di risalita del Caberlada. La stagione invernale si è aperta molto bene con il ponte dell'8 dicembre, il paese era veramente illuminato in festa e gioioso e magico. Chiaramente poi ci sono dei settori che hanno sofferto di più, penso per esempio all'abbigliamento invernale e sportivo ha sofferto un po', però la ristorazione per esempio, gli alberghi e la somministrazione sicuramente hanno avuto un buon inizio di stagione. È chiaro che poi la mancanza di neve a gennaio, seppur abbiamo avuto delle giornate splendide, ha frenato un po' questo inizio di stagione. Con febbraio, un po' di neve che è venuta e con gli eventi organizzati insieme e con la collaborazione della Confcommercio al comune di Asiago, partendo da Artecioc per poi arrivare ai fiocchi di luce, il mese di febbraio sicuramente ha fatto sì che il paese vivesse un buon periodo di afflusso turistico, tradotto anche con migliaia di persone presenti, tradotte anche in pernottamenti, che questo è molto importante per noi. Poi a maggio avremo questi eventi importanti, che sono Asiago da Fiaba, il 13, il 14 maggio, il 20 e il 21, per poi affrontare il Giro d'Italia. Siamo stati premiati con la tappa del Giro d'Italia e poi siamo ben pronti per la stagione estiva. Le presenze degli alberghi sono state abbastanza, non diciamo tristi, però non possiamo essere allegri, dovuto al fatto che non abbiamo avuto precipitazioni nevose e quello che siamo riusciti a fare è stato grazie all'innevamento artificiale che abbiamo fatto cinque anni fa, che però non è completato, visti i grossi costi, per cui non avendo torri di raffreddamento e quant'altro, siamo riusciti a innevare in parte. Poi per quanto riguarda i fini di settimana sono sempre stati al top, sono sempre stati fortunatamente anche il sole ci ha aiutato, grazie a questo magari i genitori lasciavano i bambini a sciare, loro andavano a passeggio, però diciamo che è stato un anno un po' zoppicante. Adesso sono cominciati i lavori per fortuna per quanto riguarda l'ampliamento del bacino, per l'innevamento artificiale e grazie ai nuovi investimenti che farà il Comune tramite i fondi odio, sostanzialmente che è lo stesso progetto che andrà a far ripartire le melette, speriamo quanto prima, dovremmo riuscire ad avere anche noi le piste per l'anno prossimo quantomeno innevate, sperando che arrivi dal cielo, però se non arriva dobbiamo cercare di arrangiarci in qualche maniera. E sempre da Asiago partono due nuove proposte pronto cuoci delle macellerie aderenti alle macellerie del gusto, i panzerotti e le guance di maiale brasate dei fratelli Longhini. Le macellerie del gusto per questo periodo propongono dei panzerotti ripieni, che propongono in due versioni, uno ripieno con speck mozzarella e funghi porcini, l'altro con spinaci, ricotta e formaggio grana. Il piatto si presenta così come lo vedete, è un impasto di carni macinate bianche, impanato, viene cotto in padella 5 minuti per lato, oppure il forno a 180 gradi per 15-20 minuti. Si può abbinare un purè di patate o un'insalatina fresca. Per questo periodo le macellerie del gusto preparano la guancetta di maiale brasata, semplicemente messa in padella con figlio d'olio, un soffritto con sedano, carota e cipolla, salata, pepata, bagnata con vino bianco e lasciata cuocere per almeno un'ora e mezza. Direi di accompagnarla con delle patatine al forno e dei carciofi che sono di stagione. Il rinvio è arrivato sul fil di lana, ma chi non ce l'ha fatta pagare alla scadenza naturale che era fissata il 28 febbraio, ha ancora tempo per versare i diritti ad SCF, la società consortile fonografici. Obbligati a rispettare la prima scadenza sono le attività commerciali, così come le pasticcerie, rosticcerie e gelaterie, esclusi i pubblici esercizi e le strutture ricettive che ora potranno effettuare il pagamento di quanto dovuto per la diffusione di musica d'ambiente entro il 31 marzo 2017. Chi non ha mai sottoscritto una licenza SCF deve provvedere rivolgendosi all'ufficio i confcommercio provinciali o mandamentali, telefonando allo 0444 96 43 00, oppure online al link www.scfitalia.it slash servizi online. Ricordiamo che la riduzione della tariffa per gli iscritti a confcommercio è del 30% e anche chi pagherà con la nuova scadenza avrà diritto a questa agevolazione. Nulla cambia invece per quanto riguarda bar, ristoranti, strutture ricettive, parrucchieri ed estetiste. Per queste attività il termine ultimo per corrispondere ai diritti SCF è il 31 maggio 2017. Per gli agenti e rappresentanti di commercio della provincia di Vicenza, lunedì 13 marzo sarà la giornata in cui attraverso l'intervento di vari esperti si potrà mettere a fuoco il proprio bagaglio professionale per essere al passo con le sfide del mercato. L'occasione è offerta dal workshop organizzato della FNARC, Confcommercio, la federazione nazionale degli agenti e rappresentanti di commercio della provincia di Vicenza che si terrà al centro formazione ESAC con inizio alle ore 15. Sarà il presidente della FNARC provinciale, Paolo Dainese, a dare il via al dibattito che avrà lo scopo di evidenziare le competenze che un agente di commercio di successo deve possedere, ad iniziare dalla capacità di interagire con le strategie aziendali delle case mandanti, di utilizzare le opportunità offerte dal web, di applicare le tecniche di comunicazione e negoziazione per portare a termine una trattativa di vendita ed altro ancora. Durante il workshop interverranno Matteo Rinaldi, comunicatore sul tema Chi comunica vince e Alessandro Petracca, esperto di web marketing, sulla vendita inizia dalla conoscenza e dalla profilazione del potenziale cliente. Inoltre sarà l'occasione per evidenziare la normativa fiscale che più interessa agli agenti di commercio, le prestazioni integrative offerte dalla Fondazione Nasarco per il 2017 e le opportunità di formazione professionale specifiche per gli agenti, organizzate da ESAC Formazione Confcommercio, la partecipazione all'incontro è gratuita. Per informazioni, askom.v.it o telefonando allo 0444 96 43 00. Ed ora le altre proposte formative. ESAC Formazione propone dal 16 marzo al 6 aprile in orario serale il corso dedicato ai nuovi modelli di business per aumentare la produttività. Dal 20 marzo al 10 aprile invece il corso dedicato agli strumenti psicologici per la gestione dei collaboratori e migliorare così il clima e la performance aziendale con un'ultimale gestione del gruppo di lavoro. L'Università del Gusto propone il 13 marzo il corso con lo chef Diego Magro dedicato alla pasta per realizzare piatti innovativi seguendo la miglior tradizione italiana. Il 16 marzo invece l'emozione in un boccone con i consigli, le tecniche e le regole dello chef Gianluca Tomasi per creare finger food innovativi e abbinamenti stuzzicanti. Ed ora l'agenda. Lunedì alle ore 13 incontro dei presidenti delle delegazioni comunali del mandamento di Lonigo e 90. Alle 20.45 assemblea delle delegazioni di Chiampo, Nogarole, Vicentino, Crespadoro, San Pietro, Mussolino ed Altissimo. Alla stessa ora assemblea della delegazione comunale di Brogliano. Martedì alle 19.45 consiglio della delegazione comunale di Brendola. Giovedì alle 14 consiglio direttivo Assugrin. Alle 20.30 incontro delle delegazioni comunali di Montegalda e Montegaldella. Venerdì alle 20.30 assemblea della delegazione comunale di Altavilla Vicentina. Alle 20.30 incontro conviviale della delegazione comunale di Cornedo Vicentino e alla stessa ora assemblea della delegazione comunale di Lonigo. Per quanto riguarda questo appuntamento con ConfCommercio Notizie è davvero tutto. Vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento a domenica prossima. Una rivederci e una buona settimana. La notizia è un'acchio carico. La notizia è davvero centre cotto. Grazie a tutti.